Saltate due dita della mano destra, in particolare l'anulare e il medio della statua di San Michele Arcangelo che prima della processione di ieri ha riportato anche la lesione del polso, danni anche ad un'ala d'argento. Tutto è accaduto accidentalmente nell'immediatezza del tradizionale percorso di ritorno dalla chiesa di Via Salemi alla cattedrale. A spiegare cosa è accaduto è il parroco della cattedrale Monsignor Gaetano Canalella. Sono danni lievi, più che altro è una ferita diciamo così alla nostra devozione, infatti riseracciono delle persone davvero scosse per quanto corso al simulacro di San Michele. Il tutto è stato causato dal fatto che temendo la pioggia abbiamo deciso di preparare San Michele Arcangelo all'interno della chiesa di San Michele, trasferendolo manualmente dalla nuova chiesa grande all'antica chiesa. Nel momento di uscire poi la vara diciamo così già pronta e preparata, una piccola oscillazione durante il trasporto all'uscita, ha fatto sì che il dito alto diciamo della mano destra toccasse levemente lo stipite del portale in pietra della chiesa di San Michele e anche l'ala fosse diciamo leggermente sfiorata e quindi si sono piegate delle piume di argento dell'ala. D'anni tutto sommato lievi, già abbiamo fatto i sopralluoghi e questa mattina stesso con dei tecnici quanto prima in settimana provvederemo alla sistemazione, al restauro del danneggiamento, ripeto lieve, che si è verificato alla nostra amata statua di San Michele Arcangelo che ancora una volta ieri ha ricevuto l'omaggio, diciamo il tribudio della popolazione accompagnandolo da San Michele e qui sino in cattedrale dove si è conclusa la festa con i fuochi d'artificio e poi ancora con l'ingresso in cattedrale al grido di viva lo principe San Michele Arcangelo mentre noi cantavamo le litanie di San Michele. La lesione al polso è vistosa, diciamo così, però è una lesione composta, non è una frattura per cui il legno si è lesionato secondo la sua venatura. Comprimendolo e incollandolo tornerà regolarmente al suo posto. Non c'è neanche il minimo sfregio all'ingarnato, diciamo, del braccio per cui il colore è intatto, non si vedrà niente, diciamo, perché, ripeto, la lesione è composta. Temporaneamente l'abbiamo bendato con, diciamo, una fasciatura che restringe ma appena si potrà intervenire tornerà il braccio così come era prima. Per la prossima processione di settembre tutto tornerà come prima? Sì, sì, non solo per la festa di settembre ma anche, direi, proprio nei prossimi giorni.